Ogni potere è un enigma. Ti può dare la luce o gettare nell'ombra. Ma ogni esistenza vissuta fino in fondo ha sempre un prezzo da pagare. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. si sta lì per Isolo senza cuore. Ma tu mi hai gradito? Solo chi ha il coraggio di accettare il rischio diventa padrone di se stesso e inizia una nuova vita. Grazie a tutti.